Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Crandestino occupa abusivamente una villa nel porto di Pesaro, arrestato Cibo in scatola, gettato nella spazzatura, interviene la Caritas, forse il gesto di qualcuno che vuole screditarci Aset inaugura i nuovi sportelli per la clientela Don Achille, il prete buono amato dalla gente Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera a tutti cari telespettatori di Fanno TV Sul canale 17 c'è l'informazione locale con Occhio alla Notizia Partiamo dalla cronaca, i carabinieri di Pesaro hanno arrestato ieri mattina un tunisino di 25 anni Crandestino, che aveva deciso di vivere abusivamente in una villetta schiera completamente arredata Nella zona del porto di Pesaro e che il proprietario aveva messo in vendita L'extracomunitario, che i carabinieri hanno trovato senza documenti, era entrato nell'abitazione forzando una finestra Durante la perquisizione sono stati trovati diversi oggetti rubati per un valore di 10.000 euro e 2.000 incontanti Inoltre da un controllo effettuato su alcuni scontrini fiscali Sono stati recuperati anche altri oggetti in oro del valore di 3.000 euro Che il tunisino aveva già venduto in diversi comprooro del riminese Nel pomeriggio il GIP ha convalidato l'arresto in attesa del processo Ieri vi abbiamo mostrato le immagini di alcuni sacchetti contenenti cibo in scatola ancora buono Oggi siamo andati alla Caritas, da dove probabilmente questo cibo in scatola è arrivato Sentite che cosa ci ha risposto la responsabile Capiamo che percorso fanno questi generi alimentari, come arrivano nelle zone e come vengono distribuiti A Fano esiste un magazzino gestito dal Banco Alimentare che ha una competenza territoriale regionale per le marche nord Quindi gli enti che sono accreditati al Banco Alimentare hanno l'opportunità di prendere questi prodotti della comunità europea Gli enti accreditati sono associazioni di volontariato, parrocchie, Caritas di Ocesana anche E il percorso qual è? Che regolarmente, una volta al mese, insomma in base all'appuntamento che viene dato Questi enti si rivolgono al Banco Alimentare, fanno la loro raccolta periodica E riportano questi prodotti nel proprio centro, nel proprio magazzino E poi li distribuiscono alle persone in difficoltà in base ai criteri che si dà a ogni realtà Quello che destra un po' la sorpresa è le quantità che vengono buttate via Sono tante, non possono essere riconducibili solo a una famiglia o a un nucleo familiare? Esatto, dalla foto che mi ha mostrato mi ha colpito il fatto che fossero localizzati nel suo posto quantitativi enormi Che non possono assolutamente essere quantitativi che vengono distribuiti a una famiglia o a una persona in difficoltà Perché la procedura, perlomeno che utilizziamo noi come Caritas, che tra l'altro poi non sono mai esaustivi Quindi integriamo anche con altri prodotti acquistandoli o recuperandoli come eccedenze alimentari Dicevo, non possono essere dati così tanto a una famiglia Perché l'obiettivo non è quello di sfamare il nucleo, la famiglia per un mese intero Fino a quando non ricade la nuova distribuzione Ma è un gesto di vicinanza, di sostegno, di incoraggiamento Quindi delle quantità così esagerate non possono essere quantità di una famiglia sola, sinceramente Ecco, rivolgiamo un appello, se possibile, voi che toccate con mano La necessità e la difficoltà di chi veramente non riesce a mangiare Che chi è in essere di questa cosa non lo faccia Oppure se è in eccesso lo ridia a chi ne ha bisogno Allora, se fosse la famiglia in difficoltà, il singolo che fa questo gesto Mi sento di dire non ha senso non ritirarlo O distribuiscilo ad amici e persone che sono in difficoltà come te Non ha senso questo rifiuto, questo gesto Ma ripeto, come dicevo prima, non credo che sia il gesto di un singolo Se qualcuno, qualche soggetto che ha intenzione di screditare il circuito della solidarietà Non caschiamoci perché sinceramente non è questo quello che può aiutare la nostra comunità Questa mattina a Pesaro si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Insieme al Prefetto e le Forze dell'Ordine Per discutere del problema del campus scolastico di Pesaro Dove nei giorni scorsi è stato teatro di atti di vandalismo Sono state ritrovate, lo ricorderete, delle siringhe usate Altro materiale per l'assunzione di droghe Per contrastare questi fenomeni si è deciso di ripristinare le telecamere E l'impianto di illuminazione in tutta la zona La riattivazione della videosorveglianza sarà effettuata dalla provincia di Pesaro e Urbino Con risorse proprie Mentre per la riattivazione dell'impianto di illuminazione Ci sarà il concorso anche da parte dell'amministrazione comunale di Pesaro E degli istituti scolastici che provvederanno al ripristino del cancello automatico di accesso in tutta l'area E adesso cambiamo argomento Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi sportelli, i nuovi uffici che serviranno per accogliere la clientela di Aset Spa Quattro operatori in box chiusi, una superficie di oltre 120 metri quadri e accessi regolamentati con dispositivi elettronici Il tutto per offrire all'utenza un servizio ancora più qualificato ed efficiente Sono i nuovi uffici di Aset in via Nolfi che da oggi sono aperti al pubblico Qui nei nuovi uffici Prometeo ci saranno appunto i servizi relativi al gas, luce, illuminazione votiva e imposta di soggiorno Mentre negli uffici precedenti abbiamo lasciato l'accertamento della sosta e il censimento degli impianti termici Come vedete appunto Aset Holding in questi due anni si è ingrandita molto e quindi chiaramente gli uffici nuovi erano indispensabili Cura e ricerca del particolare unita ad un nuovo concetto di assistenza alla clientela Sono stati i principi ispiratori di questo nuovo spazio pubblico con una sala d'attesa che presenta ampi spazi Ed una particolare attenzione a portatori di handicap e fasce deboli che avranno percorsi preferenziali Le fasce più deboli che sono i disabili e le donne in gravidanza hanno una priorità di servizio Quindi di accesso agli sportelli, digitando appunto la loro categoria, selezionando, dando la macchinetta E dopo noi possiamo dare una precedenza assoluta sul servizio Ecco c'è anche una privacy maggiormente rispettata, sono box chiusi, questo a tutela proprio dell'utenza Notevolmente sì perché l'utente è più libero di parlare, confidarsi e quindi anche noi abbiamo un approccio al lavoro migliore Sono tanti i fanesi e non solo che hanno ancora nel cuore, nella memoria il ricordo di un grande sacerdote Don Achille Sanchioni Una sagoma scura, affogata in un mantello lacero e consunto, a cavallo di una bici sgangherata Che arranca sui pedali per tutta la diocesi, sospinto dallo spirito di carità e amore E che trova il tempo per tutti e per tutto Come portare conforto ai bisognosi, ai poveri, ai derelitti Donare una parola di conforto e di amicizia a chi soffre Oppure accompagnare i bambini in montagna Questa personalità così forte, così potente e ancora presente e viva nella memoria di chi ha condiviso il suo sacerdozio È stato Don Achille Sanchioni Parenti, amici, parocchiani, costituiti nell'associazione Amici di Don Achille Vogliono che tutto questo capitale di amore e carità non vada dimenticato Ma anzi, sia il fondamento di una comunità cristiana nel suo ricordo E per questo, venerdì 7 ottobre, hanno organizzato una serata per rivivere la sua storia Don Achille è stato per la città di Fano, per i parrocchiani e per i non parrocchiani Non solo il prete buono, ma il prete generoso Il prete affezionato, l'amico, il confidente Egli era presente sempre, dappertutto E noi non riusciamo a capire come potesse fare Era presente sempre Ed era un prete di una carità infinita Lui non teneva niente per sé Ma tutto il comitato, oltre che adoperarsi per la collocazione in uno spazio pubblico di una sua statua Vuole farsi promotore, presso il Vescovo Trasarti, di una causa ben precisa Abbiamo il desiderio, l'intenzione di chiedere al Vescovo Che valutata la vita di Don Achille, le opere di misericordia di questo sacerdote Inizio ad una causa di beatificazione Per portarla agli onori dell'altare Don Achille ha sempre donato tutto ciò che aveva ai poveri, ai bisognosi Vivendo con poco e rifiutando anche di farsi un abito talare nuovo Dando i soldi raccolti dai parrocchiani in opere di carità Questo era Don Achille Don Achille era un uomo semplice Uno che viveva anche nel mangiare Con una minestrina, un pezzo di pane La mela sempre, mattina e sera Un fettino di prosciutto Poi l'abito talare Tutto mezzo sgangherato Le scarpe con i buchi Andava via sempre così Dal 7 al 9 di ottobre a Fano si terrà la terza edizione di letteraria Le giornate del premio Che quest'anno hanno visto il crescente interesse da parte del pubblico A livello anche nazionale Avranno il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali La Mediateca Montanari La Sala Verdi del Teatro della Fortuna E la Sala Pedinotti di Palazzo Martinozzi Saranno i luoghi simbolo di questa edizione di letteraria Una manifestazione che per format e assetto Si distingue in maniera evidente In tutto il panorama nazionale Di manifestazione a carattere letterario Ed è proprio questo Il segreto del suo successo Il festival giunto alla terza edizione Ha una sua forza perché lavora con le scuole Lavora con centinaia di studenti Non solo di Fano ma anche di altre scuole d'Italia Si sta facendo conoscere Per l'altissimo livello qualitativo Una manifestazione come si diceva stamattina Che nasce dal basso ma di altissimo livello Che coinvolge giovanissimi lettori Che hanno oltre al piacere della lettura L'impegno e anche la responsabilità Di giudicare il libro che vince O i libri che vincono Perché alcuni sono frutto di traduzioni Da testi stranieri E altri in lingua italiana Un evento dal basso costo Poco più di 7 mila euro Ma dall'altissima resa per la comunità Visto che i libri che arrivano dalle case editrici Rimangono poi alla città Fino ad oggi sono ben 1880 i libri donati Per un valore di oltre 25 mila euro 550 invece quelli arrivati per questa edizione Inviati da 40 case editrici Tra le maggiori sul mercato Compresa la Delphi Che non invia quasi mai i testi ai concorsi Segno questo di grande consenso Riscosso dalla manifestazione Il premio verrà assegnato all'autore italiano E al traduttore del romanzo straniero Più votati dalla giuria di 800 studenti Dei gruppi di lettura Di 12 istituti scolastici superiori E' stata un po' la scommessa fin dall'inizio Si parla sempre dei giovani che non leggono Noi in questo paese Noi credo abbiamo sfatato in realtà questa bugia Sono appunto forse gli adulti che leggono poco E di conseguenza anche i giovani Perché poi quando i giovani sono chiamati a leggere liberamente Possono scegliere cosa leggere E poi sono chiamati alla responsabilità di un voto Leggono, leggono e come Leggono anche molto bene Perché anche quest'anno hanno scelto Secondo me in modo molto intelligente I libri da premiare Sono anche cresciuti in questi tre anni Abbiamo cominciato con un gruppo di 350 lettori Che ci tengo a ripeterlo Sono lettori volontari Non c'è dietro l'insegnante che li tira per le briglie E dice adesso tu leggi Volontariamente e spontaneamente Aderiscono ai gruppi di lettura 350, un po' meno di 400 il primo anno Quest'anno quasi 800 Quindi un balzo in avanti notevole Venerdì scorso si è inaugurato Il centro di equitazione Ecus In località Villabetti Presente la manifestazione per il taglio del nastro Il presidente della regione Luca Ceriscioli Quello della provincia di Pesorurbino Daniele Tagliolini Ed il vice sindaco del prete Del comune di Monte Ciccardo I presenti alla cerimonia hanno potuto assistere Anche al divertente carosello musicale a cavallo Che i bambini, li vedete in queste immagini I bambini della scuola di equitazione Hanno organizzato in due gruppi in maschera Sotto la direzione dei loro istruttori Grande successo di pubblico Giovedì scorso Per la prima puntata della seconda stagione Di Missione Salute Giovedì sera si torna con una nuova puntata in diretta Questa volta avremo ospiti in studio I medici del reparto di neuropsichiatria infantile Di Marche Nord Con il suo direttore La dottoressa Vera Stoppioni Che noi abbiamo incontrato nei giorni scorsi Parleremo di questo reparto di neuropsichiatria infantile Dell'azienda ospedale di Marche Nord Che è nel mio cuore da molti anni E ne parleremo appunto come di un servizio specialistico Che si occupa di prevenzione, di diagnosi, di cura E di riabilitazione dei disturbi neuropsichiatrici Dell'infanzia e dell'adolescenza E parleremo di quest'altra grande eccellenza che abbiamo Che è il centro autismo Poi parleremo di disturbi di linguaggio Parleremo di cefalea Parleremo di epilessia Parleremo anche un po' del disturbo psichiatrico Che come si è visto recentemente Nasce frequentemente nell'infanzia A volte nella primissima infanzia E che quindi merita grande attenzione Anche quando forse non è così esplicito Come lo sarà successivamente E adesso parliamo invece di Chef in the City Che è la gara di cucina amatoriale fanese Che si appresta a debuttare per la nuova stagione La stagione 2016 Questa volta abbiamo deciso anche noi di Fano TV Di metterci un nostro rappresentante E abbiamo deciso di mettere ai fornelli Lino Balestra Insieme a lui ci sarà la sfidante Virginia Della Valle Che è una 25enne studentessa universitaria E Marco Leopoldo Todesca Medico di 61 anni Che nei giorni scorsi sono stati aggiunti Che si sono aggiunti insieme a Chiara Mei Architetto 27enne di Fano Quindi complimenti e in bocca al lupo Naturalmente che vinca il migliore Il telegiornale si chiude qui Un telegiornale che come probabilmente I più attenti avranno notato Ha avuto una sola inquadratura Semplicemente perché? Perché come ho già detto questa mattina In rassegna stampa Stiamo effettuando importanti lavori Di ristrutturazione e di cablaggio Come si dice in gergo Di tutta la regia televisiva di Fano TV Perché abbiamo deciso di intervenire Soprattutto sulla parte del suono Quindi sentirete nei prossimi giorni Certamente la differenza Andiamo sempre avanti Grazie per averci seguito Buona serata a tutti Grazie per averci seguito